Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono le K300 Oggi, ragazzi, parlerò un pochettino Allora, io sto registrando esattamente questo video il 24 dicembre alle ore 4 Molto probabilmente questo video lo vedrete molto probabilmente prima della sera E volevo dirvi appunto che fino al 7 gennaio, 5 gennaio, insomma Sicuramente dopo il Capodanno, dopo Natale Non vedrete i video sul canale Perché mi voglio prendere una piccolissima pausa appunto nel registrare i video Questa scelta diciamo che l'ho presa molto molto lentamente Perché effettivamente non sapevo, dicevo mi, però i video sul canale E alla fin fine però ho deciso di prendermi qualche pausa Ovviamente le live sicuramente sulla piattaforma viola continueranno Perché le live diciamo che mi viene molto molto più comodo a farle Alla fin fine quella volta che gioco magari premo il tasto via la diretta E alla fin fine finisce là Quindi le dirette credo che molto probabilmente continueranno Ovviamente non saranno frequenti Però neanche del tutto assenti Quindi tranquilli sotto questo punto di vista Invece per quanto riguarda i video Probabilmente ci saranno zero sul canale Quindi vi sto facendo questo Innanzitutto per augurarvi delle buone feste Un buon Natale Soprattutto un buon inizio anno nuovo Così vi faccio gli auguri subito Perché oggi è già la vigilia Quindi poi stanotte è Natale Tutte queste cose qua Quindi ho detto meglio lo faccio adesso il video Così sanno che non porterò video Ovviamente la data è indeterminata Voi sicuramente aspettatevi dei video dopo capodanno Questo è sicuro Perché? Vi state domandando Allora non sono particolarmente stanco Ovviamente queste vacanze che sono appena iniziate Appunto dopo la scuola Mi sono servite moltissimo Mi stanno servendo Perché già pochissimi giorni Ah no ieri sono entrato teoricamente in vacanza E già sono abbastanza rilassato Perché sono veramente ragazzi distrutto Con lo studio Con i video E alla fine con le live non tanto Mi stanco molto di più a fare video Lo studio Che comunque lo studio sta andando bene Però è pur sempre stancante Quindi mi dispiace tanto dirvi Che appunto non voglio prendermi Voglio riposarmi Non voglio fare neanche i video Tanto non credo che poi Ormai di questi tempi ci saranno più leaks Anche perché l'Epic Games Andrà in vacanza E appunto Non credo che ci saranno tantissimi leaks da portare Quindi io ovviamente Non ne porterò in questo periodo di festa Comunque appunto Gli auguri già ve l'ho fatti Spero appunto di Io non vi deluda Però ragazzi L'ho dovuto fare Capitemi Tanto alla fin fine Pochissimi giorni Una settimana Forse massimo Fino al Dopo L'anno nuovo Quindi ci rivediamo a questo punto Direttamente nel 2021 Che dire ragazzi Non voglio prolungarmi oltre Speriamo che questo piccolo video Vi sia piaciuto E niente Noi quindi ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 Grazie.